È nota per la sua rocca una delle più importanti fortezze medievali delle Marche. Eppure a Uffagna, nonostante le piccole dimensioni, ci sono ben tre musei. Tra quelli che andrebbero riscoperti troviamo il Museo di Scienze Naturali, intitolato a Luigi Paolucci. Fondato nel 1996, è dedicato all'insigni naturalista anconetano, morto negli anni 30 del secolo scorso. All'interno sono esposti numerosi reperti naturalistici e una ricca strumentazione scientifica. Uffagna rientra nel territorio della riviera del Conero, che era molto caro a Luigi Paolucci. Ad esempio anche la selva di Castelfidardo. Se voi leggete il libro scritto da Luigi Paolucci, Flora e fauna delle Marche, lui fa numerosissimi riferimenti alla selva di Castelfidardo che visitava quasi regolarmente. I tre musei importanti sono il Museo della Rocca, questo Museo di Scienze Naturali dedicato a Luigi Paolucci e il Museo della Liberazione di Ancona. Naturalmente la punta di diamante è il Museo della Rocca medievale, in quanto il monumento stesso attrae moltissimo l'attenzione dei turisti. Il Museo di Scienze Naturali Luigi Paolucci è soprattutto oggetto di interesse da parte di scolaresche. Luigi Paolucci fu un importante scienziato del suo tempo, effettuò importanti studi sugli animali marchigiani, sulla flora, sulle piante e anche sui funghi. All'interno del museo troviamo anche lo studio originale, dove lo scienziato era solito effettuare gli esperimenti. Fu famoso per aver voluto raccogliere tutta la flora e tutta la fauna che popolavano la regione Marche all'epoca. E soprattutto queste collezioni molto importanti che lui ci lasciò sono conservate in parte in questo museo, a lui dedicato, parliamo soprattutto delle collezioni faunistiche, mentre la flora, con un erbario molto importante, è conservato presso l'Università Politecnica delle Marche. Luigi Paolucci in realtà è un amico di lettera di Charles Darwin stesso. In particolare qui ci troviamo nel suo studio, che è costruito come una wunderkammer, ovvero una stanza delle meraviglie. All'epoca andava molto di moda creare queste stanze delle meraviglie. Un esempio molto importante è lo studio Ola d'Urbino. Gli animali presenti sono stati impagliati attraverso la pratica della tassidermia, che consente la disposizione della pelle dell'animale su un modello anatomico che abbia la forma e le misure dell'esemplare. È una pratica un pochino macabra forse. Consiste nello spellare, privare l'animale della pelle, togliere tutto quello che c'è dentro e poi ricostruire la pelle su un oggetto che ricrea la forma dell'animale originale. Questo permette di ricostruire un animale quanto più simile alla forma reale e dargli anche delle posizioni tanto più naturali possibili. Grazie a tutti.